Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di nuovo insieme sul canale giocatore ma oggi ragazzi cosa andremo a fare oggi ne andremo a parlare delle di nuovo dell'apple watch 3 come avete visto sul canale vi ho fatto un unboxing che vedo che è partito nel computer di mio papà spegniamolo ok quindi ok quindi ho fatto una bella unboxing e adesso andremo a fare una spiegazione principale per chi non ha capito allora questa qui è l'unboxing come vedete e quindi adesso andremo a fare invece che cosa fa per davvero questo apple watch quindi adesso andiamo a vedere insieme ok quindi partiamo mamma mia partiamo subito dal suo design che ha un design molto carino secondo me può veramente con il design e vince tutto fino del 2 ragazzi quando hanno aggiornato l'apple watch 3 del 2 al 3 secondo me è stata una grande differenza poi adesso si accenderà e non si sta accendendo scarico ok si è acceso con il gioco della me l'avevo scritto perché sto facendo un altro video poi andato male no sta scherzando ok quindi qui guardate che bello il logo della me l'avevo si vede il mio telefono che riprende ciao telefono ok quindi le sue funzioni principali sono il fitness i messaggi dei chiamati infatti si possono fare le chiamate e secondo me la differenza se non volete spendere tanto se non volete esagerare se volete avere un orologio che vi segna l'ora che vi dà le calorie i battiti al posto delle band 3 che vi ha fatto anche la sua recensione guardatelo qui poi farò un altro video anche per lui state tranquilli questa settimana arriverà un video su sugli orologi quindi sta accendendo ancora e ci mette un gran anno vabbè intanto vi parlo di dell'apple watch di quest'anno infatti adesso è appena uscito l'apple watch 3 come vedete sul canale ho fatto anche le nuove funzioni di ios 14 quindi ecco è stato l'ultimo video che ho fatto con il 55 visualizzazioni grazie ragazzi e l'apple watch 3 152 visualizzazione quindi ho visto che mi piacciono tanto quindi adesso andiamo sempre ok sta ancora accendendo infatti l'apple watch di quest'anno è l'apple watch 6 e 6 e 6 e la differenza fra l'S e 6 che l'S è più avanzato costa di meno è molto più piccolo ma comunque è praticamente uguale al 3 infatti dalle 3 alle 5 volendo fino alle 6 sono tutti uguali quindi potete scegliere fra il 3 e il 4 che non è più venduto il 5 e il 6 o la 6 e poi sono uscite anche i nuovi iphone l'iphone 12 12 pro e 12 pro max e 12 mini ovviamente che secondo me è il più bello di tutti ci mette un bel anno a caricarsi vi devo dire un miliardo di cose infatti da tantissimo che non metto un video sul canale vi raccomando iscrivetevi al canale guardate che siamo a 27 iscritti di ci sono gli appunti 27 iscritti ragazzi ed è per me tantissimo date quanti video ho messo se andate sul computer Samsung per adesso si possono vedere tutti i miei video che sono tantissimi nooo ma sono il primo episodio di Minecraft ok si è acceso adesso devo mettere la password aspettate che era pure che bello ok ecco qua il nostro Apple Watch quindi la devo vedere nella sua schermata che è molto sempre elegante adesso andiamo ad alzare la luminosità guardate la rotellina guardate la rotellina che fa anche un rumore bellissimo se c'è silenzio l'avete sentito se no no va bene quindi rendiamo qui e adesso andiamo ecco l'avete sentito non lo so speriamo di sì aspettate che ok è preso adesso adesso andremo nell'app impostazioni per mettere la luminosità al massimo ok ok adesso al massimo e vedete al meglio possibile ok quindi adesso andiamo a vedere le sue funzioni delle sue app come vedete la nuova watch face dell'artista che è molto carina queste qui sono delle artiste che hanno fatto dei disegni e segna e secondo me va molto bene è anche molto elegante si può abbinare ai vostri colori dei vestiti se avete un vestito come i capelli come i vestiti sono sempre blu vabbè a me mi piace tanto questa qui quella da bocca muta vabbè quindi adesso andiamo a vedere le sue app partiamo subito dalla fotocamera che si connette al mio telefono adesso sto riprendendo col telefono poi vedete la differenza tra fotocamera e telefono poi qui c'è l'app sto no qui c'è telegram uh aspettate 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 ci sono messaggi oh non si carica vabbè poi si caricherà dopo qui c'è l'app store dove si possono scaricare un sacco di app ovviamente non nei giochi poi abbiamo Shazam per chi lo vuole il cronometro google maps non c'è mapp abbiamo vocali respirazione il telefono pronto dov'è che vi farà trovare le persone non i dispositivi messaggi e la frequenza cardiaca e anche walkie talkie che mi piace un sacco quindi adesso facciamo una bellissima panorama oh mamma mia ok facciamo una bellissima panoramica quindi si riesce più totale da ora ok questo silenzio ci ha accompagnati quindi se avete visto fino a questo punto del video ragazzi commentate con io ho visto tutto il video va bene quindi andiamo sempre avanti ok quindi si possono fare tante cose lo consiglio per tutti qui c'è la cosa del tempo di utilizzo non so neanche perché adesso andiamo a vedere che facendo uno swipe tirando in alto si può andare a vedere tutte queste informazioni e da quest'anno se aggiornate il vostro apple watch se ce l'avete ovviamente di ah mamma mia si scatta tutta ah la funzionalità vi apparirà questa app qui la funzionalità di cercare di monitorare quando quando dormite infatti ma io mi chiedo ho dormito otto ore e venticinque molto bene ma quando bisogna caricare questo apple watch per l'apple watch con lo luisano tutte queste cose qui come cavolo si fa non lo so apple poi ve lo direte cioè poi lo dovreste dire adesso facciamo tanto i fighi e come vedete adesso vedo una bella watch face e apparsa questo cosa qui questo qui si può condividere le watch face con qualcun altro quindi quindi mettiamo una bella watch face eccola qui ok quindi concludo qui con il video ragazzi spero che vi sia piaciuto tanto poi ne farò un altro domani ne uscirà speriamo se tutto va a vedere se wifi va e niente ci vediamo alla prossima con i 10 minuti di video mi raccomando lasciate like iscrivetevi quando vi vedete e commentate con io ho visto tutto il video se avete visto tutto il video ovviamente ciao 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 ciao